Ciao Scarda, ti chiederei innanzitutto di presentarti per i pochissimi che ancora non ti conoscono. Questa domanda mi mette sempre in difficoltà, comunque sono un cantautore, nel senso mi piace ancora definirmi così, nonostante il vecchiume della parola ormai. Sono calaprese, abito a Roma e mi occupo di fare musica. Perfetto, come al solito, in ordine cronologico partiamo dal passato e vorrei chiederti, la tua carriera è più o meno iniziata con un debutto quasi cinematografico, quindi con la colonna sonora di Smetton Dovoglio, la soundtrack, per cui è andato anche vicino a un premio importante. Sì, sì, il Davide. Purtroppo sì, ho ricevuto la candidatura, erano sei e niente, non ho vinto io, ho vinto tra l'altro Ricciardi, che è un cantante neomelodico napoletano, però ha vinto lui, va benissimo. E appunto è stata un'esperienza importante lo stesso, non solo per il fatto della nomination, ma anche di per sé per aver scritto una canzone, per un film che ero veramente i primi mesi di carriera e quindi fare subito una cosa che da nessuno ti poteva già dare un minimo di serietà come artista è stato importante. E che rapportare adesso col cinema? Pensi di continuare a collaborare in qualche modo? E finora, sempre con lo stesso regista, siccome Smetton Dovoglio è diventata una saga, ho fatto tutte e tre le canzoni per i film. Al momento non c'è niente che bollo in pentola, qui lo dico, qui lo dichiaro. Se capiterà, dipende, insomma, se il film è fico, eccetera, assolutamente sì. Mi farebbe sicuramente piacere farlo di più. Ci sono passati circa quattro anni, diciamo, dal primo album a Tormentone, che invece è uscito l'anno scorso, 2018. Volevo chiederti cos'è cambiato in te in questo periodo, che ti ha portato poi alla stesua di Tormentone. Secondo me, a livello proprio spirituale, nulla. È un disco che è uscito con più consapevolezza in generale di alcune dinamiche, sia dal mondo musicale, che tutto quello che poi ci sta intorno, l'aspetto umano della musica e non. Per il resto, credo, cioè, i testi più o meno sono rimasti allo stesso stile, però è vero che più scrivi e più magari ci fai la mano e magari in teoria dovresti scrivere meglio. Anche se poi ci sono esempi, in realtà, di quando arrivi a 50 anni non riesci più forse a parlare di una generazione, della nuova generazione. Quindi io penso che Tormentone è stato scritto con una maggiore consapevolezza di quelli che erano i sentimenti, diciamo, di questa generazione che ascolta la musica oggi. Tormentone è stato, noi siamo di tutti giù per terra, quindi siamo molto legati alla musica live, Tormentone è stato accompagnato da un tour e da un altro tour che si chiama Fine Tormentone. E volevo chiederti quali sono le emozioni che provi di solito a cantare le tue canzoni live e a vedere la risposta del pubblico quando canti le tue canzoni live. Allora, a me piace quando durante il concerto, nella dimensione club, mi piace quando le persone cantano la canzone, perché ci sono artisti che invece non apprezzano questa cosa, è risa tutta. Invece a me, nella dimensione club, è bello quando tutti cantano, mentre invece non mi piacerebbe se io mi esibissi a teatro, per esempio, lì ci starebbe il silenzio. Prima di un congetto sento sempre molta ansia, la sentirò anche stasera, nonostante si sa già che a livello di pubblico andrà bene, ma nonostante ciò io sono agitato per la performance, questo mi succede sempre. È una paura bella, però, non una paura buona te. Grazie, come ho anticipato, questo tour si chiama Fine Tormentone e vuol dire che stai chiudendo, diciamo, un capitolo della tua carriera per iniziare un altro? Sì, con questo tour si chiude il capitolo Tormentone, questo disco, insomma, viene consegnato alla storia e dopodiché mi metterò a lavorare, già, in teoria, già ci sto lavorando a delle cose nuove. Insomma, finito questo tour, se ne parla quando uscirà il prossimo disco, insomma, sì. Ultimissima domanda, volevo chiederti un po' delle tue origini, perché in realtà uno degli ultimi singoli che è uscito è Tropea. Sì. Quindi, origini calabresi, volevo chiederti quanto sei legato in realtà alla tua terra e quanto la terra viene raccontata nelle canzoni, influenza le canzoni, la scrittura. Sono molto legato nel senso che le cose veramente forti le ho provate lì, perché il periodo in cui provi in maniera più forte le cose è di solito l'adolescenza o poco più. E quindi è in Calabria che io ho vissuto le cose che mi sono arrivate più forti al cuore, perché ero anche in un'età in cui ero più predisposto. Poi con l'esperienza tutto quanto impallidisce di più a livello emozionale, con l'esperienza, cioè più va avanti nella vita. E quindi io questo provo quando torno in calabria, sento sensazioni forti. Perfetto. Ma l'ultimissima cosa ti chiederei di salutare gli amici di Tutti Giù Partendo. Io saluto veramente di cuore, vi seguite dall'inizio, quindi io veramente vi ringrazio tanto. Un saluto a tutti gli amici di Tutti Giù Partendo. Un saluto a tutti gli amici di Tutti Giù Partendo.